ben ritrovati con l'appuntamento meteo si conclude per l'italia una settimana all'insegna del tempo soleggiato un po ovunque fatta eccezione per le estreme regioni meridionali questo sembra essere il trend anche per tutta la settimana prossima pertanto le temperature continueranno ad essere di stampa estivo ovunque ed il cielo sarà sgombro da nuvole fatta eccezione per timidi addensamenti sui rilievi nelle ore pomeridiane ma senza rischio di pioggia in abruzzo domenica simile a quanto vissuto oggi con il sole protagonista assoluto in tutti i settori della regione possibile solo qualche addensamento sui rilievi ventilazione sempre debole a regime di brezza sulle aree costiere ed anche in quelle più interne il mare calmo o quasi calmo le temperature minime di questa notte comprese tra 11 e 18 gradi e le massime di domani stazionario in leggero aumento con valori compresi tra 24 e 27 gradi per il metro è tutto vi auguro una buona domenica le previsioni su super j ritornano lunedì mattina buona domenica le previsioni sui rilievi buona domenica le previsioni su super j